numero 6 questa protezione è in gomma elastica aderente un materiale che mantiene il gesso o la benda asciutti durante il bagno o la doccia è certificata fda non ha alcun odore ed è senza lattice ideale per uso domestico ospedaliero la protezione si adatta alla maggior parte delle dimensioni delle gambe degli adulti disponibile anche per bambini numero 5 questa ottima protezione consente agli adulti con lesioni a gambe o piedi di nuotare fare la doccia o il bagno senza che la medicazione si bagni le protezioni blocks sono studiate per coprire ingessature o medicazioni con un sigillo impermeabile aderente disponibilità per adulti e bambini sono appositamente progettate per essere completamente immerse con protezione a tenuta stagna per ingessature medicazioni e fasciature numero 4 questa protezione per adulti e adolescenti è impermeabile al 100% è a tenuta stagna a prova di perdite e antistrappo i protettori del braccio offrono un'eccellente protezione per la medicazione o il gesso durante la doccia o il bagno è realizzata in materiale pvc resistente la copertura impermeabile e ecologica riutilizzabile e lavabile il design full sits e l'anello elastico in silicone la rendono adatta alla maggior parte delle braccia disponibile anche per bambini se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 3 questa copertura per adulti ha un anello di tenuta unico completamente sigillato senza bisogno di colla nastri stringhe o sacchetti di plastica tradizionali adatta a gessi bende cerotti non lascia passare l'acqua durante la doccia o il bagno in gomma chirurgica duratura ottima anche per mano protesica l'apertura elastica e morbida il materiale in pvc sicura e comoda per scivolare sulla protezione del gesso del braccio prima di fare il bagno o la doccia per evitare che l'acqua danneggi il gesso e irriti la pelle numero 2 le protezioni blocks sono studiate per coprire ingessature o medicazioni con un sigillo impermeabile aderente progettate per essere completamente immerse con protezione a tenuta stagna per ingessature medicazioni e fasciature consentono ad adulti con lesioni a braccia mani di nuotare fare la doccia o il bagno senza che la medicazione si bagni ideali per le vacanze in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto numero 1 le protezioni blocks sono studiate per coprire ingessature o medicazioni con un sigillo impermeabile aderente per scegliere la misura più adatta fare riferimento alle immagini nella tabella delle taglie da 1 a 14 anni sono appositamente progettate per essere completamente immerse con protezione a tenuta stagna per ingessature medicazioni e fasciature consentono ad adulti e bambini con lesioni a braccia mani di nuotare fare la doccia o il bagno senza che la medicazione si bagni ideali per le vacanze e fare la doccia